è la prima volta che mi approccio alla medicina estetica in senso generale grazie alle master chieste del professor Rauso per questa parte del master chieste si può considerare a moltissimo livello in quanto abbiamo bisogno di approcciare sia l'ambito teorico dal punto di vista della diagnosi del paziente ma anche nella votazione di tutte le dimensioni in senso generale ma anche dal suo approccio in senso commerciale dell'attività della professione di medicina estetica trovo queste edizioni molto interessanti e dal punto di vista teorico ma soprattutto dal punto di vista pratico perché questa è una disciplina quella della medicina estetica dove molto spesso non vengono spiegate nel dettaglio quelle che sono le tecniche diciamo base ma anche quelle poi avanzate che noi queste quelle che poi fondamentalmente stiamo qui vedendo per valorizzare il volto il professore Rauso che io ho avuto già insomma il piacere di conoscere all'università posso dire che si muove con molta disinvoltura nel farci capire come approcciare al paziente proprio a partire dalla diciamo dalla diagnosi perché da buon docente lui ci mette davanti il paziente e ci dice come prima cosa di guardare il volto del paziente indipendentemente dalla sua richiesta perché molto spesso il paziente viene con delle idee a volte sbagliate su un trattamento e ti dice vuole effettuare un trattamento ma è in quel momento che il medico deve entrare e far capire alla paziente che per valorizzare il suo volto deve eseguire diciamo un percorso